Ciao, oggi il Vangelo parla della libertà, libertà che nasce del cuore che c'è dentro e del quello è base delle nostre decisioni, decisioni per quale possiamo sentirsi responsabili. E quindi quando c'è il tema di pagare le tasse per il Tempio Gesù dice chi paga le tasse e fa sentire e fa alla gente che davvero c'è qualcosa forse sbagliato in questo sistema perché davvero le tasse in questi tempi hanno pagato a modo sforzato solo la gente che era sottordinata, non quelli che erano figli di questa terra. Quindi per Gesù una persona libera è quella che ha approccio come questo nella famiglia, come essere figlio. E Gesù non nega necessità di pagare le tasse al Tempio, pagare e sopportare il Tempio. Apprezza questo che ha fatto anche una vedova pagando per bene del Tempio, ma questo che cresce nel nostro cuore. Quindi il Vangelo volta il nostro sguardo a questo per vedere cosa faccio da questa mia decisione dentro me, dal approccio che io sono e posso essere responsabile per questo, fare qualcosa, a non dal sforzo, si fa così, obbligo che è dal fuori. Questo è un appello alla nostra autonomia, alla libertà nel nostro cuore. Così penso io.